La psoriasi è una vera e propria patologia, quindi non va assolutamente sottovalutata. La singola chiazza sul gomito, la singola chiazza sul ginocchio può essere spia di un disturbo più importante che talvolta può coinvolgere le articolazioni, talvolta può sottendere una sindrome metabolica. Quindi assolutamente una psoriasi lieve va trattata, inquadrata, per evitare che si trasformi in una psoriasi moderata grave, come diceva lei, che crei notevoli problemi da un punto di vista anche psicologico nell'approccio della vita relazionale. Sì, noi abbiamo già da due anni un ambulatorio condiviso in cui appunto condividiamo i pazienti con la reumatologia e con la gastroenterologia, proprio perché i pazienti particolarmente complicati, che hanno più comorbidità, come possono essere malattie gastrointestinali, malattie articolari, possano essere visitati in uno stesso giorno o nell'arco del periodo di osservazione da tre specialisti diversi con un unico ticket.